Ciao, da questa esperienza mi aspetto di condividere lavorativamente tante cose con i miei colleghi, di portarmi un'esperienza... che cosa? Bella, di arricchire il mio bagaglio e di conoscere tante persone. Come è andato il casting? Bene, adesso mi sento molto rilassata, finalmente. Che emozioni hai provato? Ero molto tesa, però sono riuscita comunque a tenermi equilibrata. La scelta della modella è stata difficile? No, è stato casuale, comunque l'ho scelta sulla nave, lei mi ha dato subito la disponibilità e sono molto soddisfatta del lavoro che ho fatto. E la settimana di formazione come è andata? Bene, sicuramente mi porterò a casa una grande esperienza, mi è piaciuto tanto confrontarmi con i miei colleghi e, ripeto, sono anche molto soddisfatta del lavoro che ho fatto. E adesso che hai finito come ti senti? Rilassata, molto rilassata. A presto! A presto!